Lunedì 3 dicembre San Cassiano, è il 337 giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 28 al termine. Il sole sorge alle 7.32, tramonta alle 16.32, la luna sorge alle 3.04, tramonta alle 14.47. Muore agguato, sperduto villaggio della Nigeria, Giovanni Battista Belzoni, esploratore e archeologo padovano. Nei suoi lunghi viaggi si diede la ricerca dei resti dell'antica civiltà egizia, facendo importanti scoperte per conto dell'Inghilterra, fra cui le tombe dei faraoni Seti I e Ramses I nella Valle dei Re. Nel 1818 trova l'ingresso della piramide di Kefren. Gran parte dei tesori d'arte egizia da lui rinvenuti si trovano al British Museum di Londra. Le previsioni per domani. Tempo stabile e ben soleggiato in montagna, con probabile inversione termica, che favorirà a specie sulla pianura la formazione di foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde. Solo localmente potranno risultare persistenti anche nelle ore centrali. Temperature minime in calo, in pianura e nelle valli, in aumento in quota. Massime stazionarie o localmente in calo in pianura, in aumento in quota.